Buongiorno, sono Antonio Coeli, amministratore unico di Exlenet, che è una delle aziende che si occupa di Mutuo Credito e che è social fondatrice dell'AMC, l'associazione Mutuo Credito. Siamo qui perché con l'AMC partecipiamo all'osservatorio per lo studio e la diffusione dei sistemi ADR, ovvero i sistemi di risoluzione alternativa delle dispute. Chiaramente anche il Mutuo Credito è uno di quei sistemi per prevenire e risolvere le dispute in ambito commerciale e quindi naturalmente questi circuiti, chiamati di barter con terminologia inglese, vogliono consentire alle aziende che aderiscono di farsi reciprocamente credito basando tutto su un rapporto di fiducia reciproca. Siamo qui a Salone per incontrare tutti gli stakeholder che ci possono aiutare a portare avanti a livello europeo questi progetti.